Eroli ha accettato questo discorso delle visite mediche prima, visite mediche e poi tutte le altre cose che erano state chieste, è stato fatto l'accordo che ovviamente come accordo era una mediazione, a quel punto scoperti i punti dove gli operai correvano rischi di ammalarsi bisognava cambiare i posti di lavoro, mettere gli aspiratori, bisognava allontanare gli operai dai forni, bisognava fare una serie di cose, anche lì bisogna dargli atto che è stato disponibile e l'azienda è diventata un'azienda buona dal punto di vista della salute dei lavoratori, non così, molte altre aziende, la stessa Biasi, si era rifiutata, noi avevamo fatto scioperi, manifestazioni degli operai della Biasi, con cortei da Porta Nuova a Piazza Bra, avevamo fatto una serie di cose al grido di Biasi, Babbeo, beccati sto corteo, ma Biasi era molto duro insomma, capitava che magari arrivavi in un'azienda, mi ricordo una fonderia di Cavaillon, arrivavi in un'azienda, vedevi una situazione tragica di fonderia e allora magari gli industriali, l'industriale si convinceva subito a fare le visite mediche o altro perché era staccato da Confindustria, non gli interessava, capitava in altre aziende dove invece la prima cosa telefonavano all'associazione industriale e lì gli dicevano tenete duro e quindi bisognava fare scioperi, non abbiamo fatto moltissimi passi in avanti, se non appunto all'Uranio, alla Ferroli, parzialmente alla Biasi e in alcune altre piccole fonderie e quindi questo tema della salute dei lavoratori è rimasto in piedi insomma. Il che non toglie che ci siano state tutta una serie di altre lotte, di altre vertenze quasi annualmente insomma per migliorare le condizioni dei lavoratori naturalmente, sia economicamente, sia normativamente, applicare giustamente i contratti e avere premi di produzione, premi legati all'andamento della produzione, era un momento in cui economicamente andava bene, per cui non si vedeva perché tutto il reddito che producevano i lavoratori doveva andare poi in tasca agli industriali e niente doveva essere destinato ai lavoratori. Allora sono state fatte vertenze alle Adige, alla Overmeccanica, alla Padovani, all'Ariello, alla Perlini, insomma un po' in tutte le grandi aziende della provincia di Verona, sono state fatte grosse vertenze su questioni economiche e normative. La più grossa di queste vertenze è stata quella della Overmeccanica dove il padrone ingegnere Robbi, le ha approvate tutte per cercare di vincere, ha licenziato gente, ha cercato di dividere i lavoratori e così via, però poi alla fine è dovuto venire a trattativa e abbiamo concluso un accordo. Anche alla Biasi era stato fatto un accordo su questi temi, a parte la questione della sicurezza del lavoro, parzialmente era stato affrontato anche quello, ma anche su altri temi economici e normativi e mi ricordo che quello è stata una vicenda particolare che mi ha insegnato molto e ha insegnato molto anche agli operai della Biasi, Monsignor Brigantini era lì in quel momento, mi ricordo che per la prima volta, grazie alla presenza di Velponer, l'accordo che io avevo presentato in azienda e che secondo me era un buon accordo, era stato bocciato dall'assemblea, perché Velponer era al contrario e non solo Velponer naturalmente, perché poi tutti gli operai hanno votato e quindi c'era contrarietà, insomma non avevano approvato la mia valutazione della cosa.